I Socrate, uno dei maggiori maestri di retorica, è l'autore scelto dal Ministero dell'Istruzione per la versione di greco al liceo classico. Non usciva dal 1958. Il passaggio di riferimento sono i paragrafi 34, 35 e 36 del Trattato sulla pace e il titolo è Vivere secondo giustizia non è solo corretto ma anche conveniente per il presente e per il futuro. Per quanto riguarda invece matematica allo scientifico si richiede ai maturandi la costruzione di un serbatoio tra studio di funzioni e quesiti di geometria analitica, calcolo di probabilità e geometria solida. Sono queste due delle tracce della seconda prova che a differenza dello scritto di italiano di ieri è diversa per ogni indirizzo. Lo svolgimento dell'esame di oggi è iniziato come ieri alle 8.30 dopo la diffusione da parte del Ministero del Codice per l'Apertura del Plico Telematico. L'amministratore di un condominio alle prese con l'installazione di un serbatoio per il gasolio con il riscaldamento è la traccia di matematica allo scientifico. Non essendo soddisfatto dei modelli in commercio ti incarica di progettarne uno che risponda alle esigenze del condominio. E' questo uno dei problemi proposti al liceo scientifico, opzione scienze applicate. Alla richiesta seguono specifiche tecniche, una serie di quesiti matematici per descrivere la forma del serbatoio e per realizzare un indicatore graduato per collegare il livello di riempimento del serbatoio al volume di gasolio effettivamente presente. Un secondo problema ha un approccio più classico, rappresenta in figura una funzione continua e derivabile da 0 a infinito in R e sono indicati alcuni punti significativi sull'asse cartesiano, segue una serie di richieste. Per i due problemi da risolvere il primo è di tipo applicativo e il secondo invece di stampo più tradizionale. Per quanto riguarda poi gli altri quesiti, 7 su 10 sono legati ad argomenti di geometria analitica e di analisi. Due sono sul calcolo delle probabilità, uno di questi quesiti al gioco degli scacchi e un altro è di geometria solida sul calcolo di un volume di un liquido in un recipiente. I ragazzi in 6 ore devono rispondere ad almeno 5 quesiti su 10 e risolvere un problema su 2. Il questionario è prevalentemente teorico e punta sull'analisi. Al liceo delle scienze umane la traccia per indirizzo economico diritto ed economia politica riguarda infatti il dibattito sulla scuola pubblica e paritaria. Un testo di Meuccio Ruini, un anziano liberale che era stato senatore negli anni precedenti il fascismo che illustra all'assemblea costituente le proprie conclusioni in merito alla funzione della scuola pubblica. Lo spunto viene dalla ricorrenza dell'anniversario, il settantesimo, dell'inizio dei lavori della costituente. Nel testo si sottolinea da una parte la necessità, nonostante l'onere economico, di organizzare una scuola pubblica capace di aprire ai capaci e anche ai meritevoli, seppur indigenti, i gradi più alti dell'istruzione. Dall'altra si ammette la possibilità che l'istruzione non sia un monopolio statale e che quindi possano esistere scuole parificate. Si chiede al candidato di rispondere a uno dei seguenti quesiti, l'effettiva capacità, a 70 anni di distanza, di attuare un sistema di istruzione capace di premiare i meritevoli anche se indigenti, se la presenza di scuole paritarie rappresenta un valore aggiunto, qual è l'interesse generale nel finanziare la scuola pubblica, quali sono i vantaggi di tipo economico che derivano dal raggiungimento di un titolo di studio più elevato. Istituto tecnico, indirizzo amministrazione, finanze e marketing, il tema di economia aziendale riguarda una società che lavora nel mercato della meccanica di alta precisione, un mercato dove la società ha un altro grande competitor e una serie di piccole imprese non concorrenziali. Di questa società viene fornito un estratto del report mensile. Nella prima parte bisogna redigere il budget, presentare lo stato patrimoniale e il conto economico. Nella seconda parte bisogna scegliere due fra quattro quesiti proposti che riguardano la redazione di varie tipologie di report e analisi finanziarie proposte all'interno dei quesiti stessi. Liceo linguistico. Per la lingua straniera viene proposto un articolo uscito sul Guardian il 23 agosto del 2015 dal titolo Europe Needs Many More Baby to Avoid a Population Disaster. Le altre materie sono discipline turistiche e aziendali negli istituti tecnici per il turismo, tecnica di produzione e di organizzazione negli istituti professionali di indirizzo, produzione industriale e artigianale, tecnica della danza al liceo coreutico, teoria, analisi e composizione al liceo musicale, poi diritto d'economia politica al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi all'artistico. Tra le materie scelte per i tecnici, meccanica, macchine ed energia per l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l'indirizzo trasporti e logistica, fra le discipline che saranno proposte agli studenti dai professionali, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo, servizi commerciali, tecnica di produzione e di organizzazione per l'indirizzo produzioni industriali e artigianali.